Andiamo Ok Come hai fatto? Come hai fatto? Come hai fatto? Come hai fatto? Bella ragazze e mamma Siamo tornati in nuovo a video di minecraft Aspettate un attimo Ok Allora siamo Come vedete Hanno droppato un po' di semi Gli scheletrini Gli scheletrini maledetti Che non spawnano nemmeno Cioè quindi sono rimasto un po' di minuti Dentro ad aspettare che spawnano Come un rincoglionito Quindi Ok Poi non ho ancora ripreso niente Cioè Perché C'era Cancellato tipo minecraft Si era cancellato il mondo Ho dovuto fare tutto ragapo Vabbè La cesta c'era ancora Vabbè Ok Fortuna Adesso dobbiamo aspettare Questo dato che seminano Che seminano Che dovrebbero seminare Oppure Aspettare che è una notte Che è ancora mezzogiorno Mamma mia È mezzogiorno Oppure Oppure posso fare una cosa Prego Freguerei Volentieri Questo pezzo No Non lo frego C'è un blocco Ok Fregheremo niente di questo No Fregheremo niente di questo Si 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 Però prima dobbiamo avere delle torce Queste sono queste Io ho sentito raga Su internet Che Possono spunare Soltanto di notte Che non è anche Quando è buio Quindi che cosa posso fare Devo prendere Guarda ci sono facendo i semi Che carini Sono molto gentili Quei semi Grazie Che poi faranno La farm Questo ho messo Sbam Male Pena qua Pena poi Eh la traccia Ve l'ho messa Ecco È spunato Ok Ho dato solo esperienza Forse lo devo ammazzare Col Vabbè Forse lo devo ammazzare Soltanto con Forse con la spada Andiamo a ricraftarci La spada Andiamo Ok No Ci stanno facendo i semi Che belli Dovevo prendere la legna Allora Aspetta C'è un blocco Sì Vabbè Quello non lo prendo Che ciò Ne approfitto Vabbè Allora Allora Ta-ta-ta 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 Ok 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 Andiamo Nel nostro Caro Posso Ok Abbiamo una spada Poi Mi farò Un piccone Che lo metto qua Mi vado a prendere Un po' di roba Anche se non c'è più La co Come se di Non c'è più la Pietra Dov'è Ma la trovo Non c'è Non c'è più la pietra Eccolo Ce l'avevo sotto i piedi Ma Manuel ce l'avevo sotto i piedi Oh carbone Non c'è più Che cosa prendere Ok Ma se Mi devo Graffitare La spada Perché Sono andato qua Ok 3 Oh Qui Dovrebbero Già spawn Ok Sono pronto Ok Così non possono venire Dobbiamo aspettare Oh Ecco ora Sponano Ecco Come fai a venire Come hai fatto 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 Ah Ora non può venire Ah si può venire Però così no Sponato Così non ci prende Pollo Mamma non mi piace Questa parte la taglio Raga Venite E' cresciuto il grano Che bello Prendiamo 3 Possiamo farlo Si può fare Si Si può fare Oh Isoletta Che cosa Dobbiamo fare Craft Oh Uh 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 Eh beh Ci aspetta Una nuova avventura Vabbè ragazzi Quest'episodio Di Sky Grand Survival E' terminato Se vi piace In realtà Mette like E se non siete più Ossi iscrivetevi Ci vediamo Sì Bella ragazzi Ciao 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 Ciao